Voi prima, la notizia cattiva o quella buona? Ok, iniziamo dalla cattiva. Il tumore al colon retto colpisce molto più che in passato anche i giovani adulti. Ad esempio questo studio dimostra un aumento dell'incidenza di tumore al colon retto nei giovani adulti con meno di 50 anni, nella popolazione europea, storicamente associata a una bassa incidenza di questa forma di cancro, sollevando grosse preoccupazioni per il futuro. In realtà è un triste trend osservato anche negli Stati Uniti, ma soprattutto quello del colon rimane uno dei tumori più diffusi, terzo per incidenza dopo il cancro del seno femminile e del polmone. La buona notizia? La diffusa ipotesi che la causa dell'aumento nei giovani potrebbe essere lo stile di vita, sedentarietà, sovrappeso e obesità, fumo, alcol, diete povere di fibre e ricche invece di grassi di cattiva qualità, tra cui anche quelli di provenienza animale, come ci ricorda l'AIRC, oltre che di carni lavorate. Stile di vita che, secondo le stime del Cancer Research UK, è comunque responsabile del 54% dei casi a prescindere dall'età, percentuale che secondo altri autori potrebbe anche essere superiore. Per chi io la considero una buona notizia, può sembrare assurdo, paradossale, ma di questo ne parliamo dopo, hai cliccato per conoscere i segni e i sintomi iniziali e allora eccoli. Uno studio pubblicato nel mese di maggio 2023 è dedicato proprio a questo un individuo a quattro, definendoli addirittura ad allarme rosso, dolore addominale, sanguinamento rettale, diarrea e anemia sideropenica, ovvero da carenza di ferro, che a sua volta potrebbe manifestarsi con sintomi quali stanchezza e mancanza di energie, fiato corto, avvertito magari durante sforzi banali, come salire le scale, palpitazioni, segno che il tuo cuoricino cerca di compensare lo scarso ossigeno in circolo, giramenti di testa, pallore della pelle. Ora, parliamoci chiaro affinché non ci siano fraintendimenti. Se hai sempre sofferto di colon irritabile, quindi dolori addominali, e ti capita di vedere del sangue nelle feci, non pensare subito di avere un tumore, può essere una semplice infiammazione delle emorroidi. Se hai sempre sofferto di emorroidi infiammate e ti capita di avere una scarica di diarrea, non pensare immediatamente di avere un tumore. Se risulti anemica agli esami di controllo, è più probabile che siano le recenti mestruazioni magari un po' troppo abbondanti, la vera causa. Potrei andare avanti, ma dai, ci siamo capiti, no? E allora quando preoccuparsi? I medici delle cliniche Maio ci vengono incontro per rispondere a questa domanda con il solito invidiabile pragmatismo. Se noti sintomi persistenti che ti preoccupano, fissa un appuntamento con il tuo medico. La parola chiave è persistenti, è la persistenza, un disturbo che si protrae nel tempo, che non passa, che devi indurci e rivolgerci al medico. Anche in questo caso, senza però mai saltare a conclusioni affrettate, perché fortunatamente sono molto di più le cause benigne rispetto al tumore a poter spiegare questi sintomi. Ma quanto persistenti? Beh, in questo caso è l'enicessa inglese ad aiutarci a rispondere. Tre settimane, indicativamente. Dolore addominale, sanguinamento rettale, diarrea e anemia, sono questi i segni e sintomi iniziali più comuni, ma questo non significa che tutti i pazienti li manifestino. Anche perché molto dipende da fattori come dimensioni e posizione del tumore. Vale quindi la pena dare un'occhiata anche a tutti gli altri possibili disturbi associati al tumore al colon retto. Un cambiamento persistente nelle abitudini intestinali, quindi non solo diarrea, ma eventualmente anche stitichezza, oppure semplicemente un cambiamento nella consistenza delle feci o addirittura un cambiamento persistente della loro forma. Sangue nelle feci che potrebbe anche apparire nero, in pratica del sanguinamento rettale potresti accorgertene anche per la presenza di tracce sulle feci. E poi tenesmo, ovvero quella sgradevole sensazione di non riuscire a svuotare completamente l'intestino pur dopo aver evacuato. Debolezza e stanchezza, perdita di peso inspiegabile. Ma torniamo alla bella notizia iniziale. Perché dovrebbe essere apprezzabile il fatto che, presumibilmente, si intende la causa di un aumento delle diagnosi di tumore nei giovani adulti sia da imputarsi allo stile di vita? Perché questo significa che possiamo far la differenza, possiamo proteggerci. Ma facciamo un passo indietro e ripassiamo due concetti estremamente importanti. Cos'è il rischio di sviluppare una malattia e la differenza tra fattori di rischio modificabili e non modificabili. Fonti americane osservano che durante la prima metà del XX secolo il rischio generale di andare incontro a una diagnosi di cancro del colon retto è diminuito. Ma già a partire dalle persone nate nel 1950 il livello di rischio è tornato ad aumentare. Tra gli adulti di età compresa tra i 20 e i 39 anni, l'aumento inizia indicativamente a metà degli anni 70. Rispetto agli individui nati intorno al 50, quelli nati nel 1990 hanno il doppio del rischio di cancro al colon e quattro volte il rischio di cancro del retto. Perché? Alcuni autori sospettano che la spiegazione risieda, in buona parte o almeno in parte, nella diffusione di alcune pessime abitudini tipiche della società occidentale degli ultimi decenni, anche in considerazione di indizi importanti, come ad esempio il fatto che la metà dei giovani adulti con diagnosi di cancro del colon retto è in sovrappeso e il 17% francamente obeso, per non parlare di una dimostrata correlazione tra tempo passato a vedere la televisione, una sorta di indice di sedentarietà, e rischio di tumore. Questi sono due fattori di rischio, obesità e sedentarietà. Ma come devono essere interpretati? Tutti gli obesi svilupperanno tumore al colon? No, pazienti in peso forma non svilupperanno mai tumore al colon? No, nemmeno. Mettiamola così, immagina che un demone ti costringa a un gioco sadico. Dovrai pescare una biglia da un'urna, se la biglia è nera svilupperai un tumore, se la biglia è bianca sarai salva. La domanda chiave che devi porti è, quante biglie nere e quante biglie bianche ci sono all'interno dell'urna? Almeno una biglia nera c'è nella sacca di tutti, chiunque può potenzialmente sviluppare un tumore. Ma a seconda delle scelte che facciamo, possiamo modificare il numero complessivo tanto delle bianche, salvezza, che di quelle nere, malattia. Queste scelte sono rispettivamente i fattori preventivi e i fattori di rischio. Li vediamo dopo, quello che mi preme farti capire ora è invece che siamo davvero tutti soggetti a questa crudele lotteria, proprio tutti, ma allo stesso tempo tu hai la possibilità di modificare la tua personale probabilità di vittoria. Posto che almeno una biglia nera c'è nell'urna di tutti, purtroppo alcuni di noi partono con qualche biglia nera in più, nonostante uno stile di vita che può essere anche perfetto. Ad esempio un bambino di 10 anni avrà sicuramente meno biglia nera del suo nonno di 60, così come alcuni soggetti portatori di sfortunate combinazioni genetiche partono da un rischio di base superiore alla media. Questo ci aiuta a comprendere la distinzione tra due categorie di fattori di rischio, fattori di rischio modificabili, come quelli legati allo stile di vita, fattori di rischio non modificabili, come l'età. Prima di vederli uno per uno nel dettaglio, presta però attenzione a quello che sto per dirti. Se anche fossi portatore di una predisposizione genetica che favorisce l'insorgenza di tumore, questa non è una condanna. Nella tua urna ci saranno più biglia nere rispetto a quelle degli altri, ma non saranno mai tutte nere e le tue scelte potranno comunque ancora fare in modo di modificare la proporzione relativa tra i due destini possibili. Secondo l'American Society of Clinical Oncology, un soggetto a caso ha circa il 5% di probabilità di sviluppare un cancro del colon retto nell'arco della propria vita. Del totale delle diagnosi sono il 5-10% riguardo a pazienti con una specifica predisposizione genetica. Un ulteriore 10-15% si osserva in persone con una storia familiare di tumore al colon pur senza una causa genetica riconosciuta. Quindi predisposizione genetica e familiarità sono due fattori di rischio non modificabili, due biglia nere che se presenti non possiamo togliere, così come l'età, la maggior parte delle diagnosi avviene tuttora dopo i 50 anni, essere più alti, l'etnia, ad esempio gli indiani d'America ne sono particolarmente soggetti, il sesso, gli uomini sono leggermente più a rischio delle donne, la presenza di malattie infiammatorie intestinali come morbo di Crohn e colite ulcerosa, diabete di tipo 2, tendenza allo sviluppo di polipi intestinali e precedenti diagnosi di altri tumori, in particolare tumore all'ovaie o all'utero. Queste sono tutte biglie nere che non puoi togliere, a differenza dei fattori di rischio modificabili, sedentarietà, obesità, consumo di carne rossa e o processata, cottura aggressiva e ad alta temperatura, come fritture grigliate, secondo alcuni autori carenze di vitamina D e poi sicuramente alcol e fumo. Queste sono biglie nere che decidi tu se mettere o meno nell'urna, posto che ovviamente, a scanso di equivoci, non è la singola grigliata estiva con gli amici a far la differenza, così come non lo sarà il brindisi di fine anno. Questo è importante perché invece, se sei obesa, lo sarai ogni giorno e questo lavorerà a tuo sfavore ogni singolo giorno, mentre quello che decidi di bere e mangiare inciderà ovviamente anche in modo correlato alla frequenza e alla dose. Ma ovviamente, se deciderai di diventare vegetariana, contribuendo alla riduzione di inutili sofferenze animali, potrai beneficiare non solo di una riduzione del rischio di tumore. E questa non è una battuta, per quanto serviranno comunque ulteriori studi per confermare amarlo, ma beneficerai anche e soprattutto della mia ammirazione della mia stima, che converrai con me non hanno prezzo. E questo ovviamente sì, è una battuta. Cioè, è vero che avrai la mia ammirazione, ma insomma scherzavo dicendo che non ha prezzo. Vabbè, dai, insomma, ci siamo capiti, no? Ed ora la parte che non vedevo l'ora di spiegarti, i fattori protettivi, ovvero come trasformiamo la maggior parte delle biglie nere in bianche. Se mantenere un peso ideale può aiutarti a ridurre il rischio, anche perdere solo una parte del tuo sovrappeso può aiutare. Come diciamo sempre, poco è sempre meglio di niente. Magari non toglierai tutte le biglie nere legate al peso, ma iniziamo comunque a toglierne qualcuna. Essere più attiva riduce il rischio di cancro al colon retto. Non solo l'attività fisica può aiutare, ma anche limitare il tempo passato a seduta o sdraiata può avere un effetto misurabile. E questo è un aspetto che è emerso soprattutto negli ultimi anni. Te lo ripeto, più attività fisica e meno tempo seduta sono due comportamenti diversi e non necessariamente legati, ma entrambi importanti. E poi ovviamente la dieta, privilegiando pasti ricchi di verdura, frutta e cereali integrali. Sì, ho detto cereali. Sì, ho detto ovviamente integrali. Studi recenti mostrano che il rischio di cancro del colon retto sembra diminuire man mano che si aggiungono più cereali integrali alla dieta, con buona pace degli amici paleo. Anche i latticini, consumati senza esagerare, sembrano esercitare un effetto protettivo. Un'altra biglia bianca. A questo punto, se mi conosci, sai che vorrei poterti dire che anche i legumi proteggono dal tumore al colon. Ma per onestà intellettuale, devo ammettere che dalla lettura tua disponibile, stavolta non emerge un legame così stretto. Ma che ci importa? Ovviamente non è mai, e dico mai, emerso che possano essere un fattore di rischio. E abbiamo già talmente tante ragioni per consumarli regolarmente che poco importa se in questo caso specifico non spicchino in modo netto. Peraltro è lo stesso World Cancer Research Fund a consigliare di consumarli regolarmente nella tua dieta anticancro. E poi, se tanto devi ridurre il consumo di bistecchi o doghi affettati, ma cosa c'è di meglio che sostituirli con i legumi, no? Interessante notare, a questo proposito, un importante filone di ricerca che sta indagando il legame tra microbiota, i nostri amici batteri intestinali, e insorgenza e progressione di tumore al colon. Anche in questo caso si stanno accumulando prove di possibili nessi causali, causa e effetto, che peraltro potrebbero contribuire a spiegare alle ragioni dell'effetto deleterio delle tipiche diete occidentali. E cosa possiamo aggiungere a frutta, verdura, cereali integrali ed eventualmente anche legumi per diventare cintura nera di microbiota intestinale? Esatto, alimenti fermentati. Ok, lo ammetto, siamo nel campo delle ipotesi o poco più, ma di nuovo le evidenze di beneficio verso altre condizioni di salute sono così interessanti che tanto ne vale la pena comunque. Non credi anche tu? E da dove cominciamo? Per esempio dallo yogurt che presumibilmente unisce l'effetto protettivo dei latticini a quello dei prodotti fermentati e magari ogni tanto alternano con gli yogurt di soia che potrebbe avere anche lei un'influenza positiva sul rischio, anche se di nuovo, in tutta onestà, le evidenze sono ancora dubbie. E se te lo stessi chiedendo, infine, l'assunzione di vitamina D non è chiarissimo che effetto abbia. È vero che alcuni studi hanno dimostrato che bassi livelli di vitamina D sono associati a un aumentato rischio di cancro del colon retto, nonché di altri tipi di cancro, ma come sempre capita con questa strana vitamina non è proprio chiarissimo se ci sia un rapporto diretto di causa-effetto o semplicemente una correlazione. Ma soprattutto, più di ogni altra cosa ricorda, non è mai troppo tardi e non è mai troppo presto per migliorare il tuo stile di vita. Il momento migliore per iniziare era la nascita, ma il secondo momento migliore è oggi, anche se stessi già convivendo con una diagnosi di tumore. Ogni cambiamento va bene, anche se introdotto poco per volta. Un cambiamento piccolo è meglio di nessun cambiamento, ovvero nessun cambiamento è mai troppo piccolo. Allo stesso tempo, un piccolo danno è meno peggio di un grosso danno e penso ad esempio a carne alcolici. I miglioramenti sono cumulativi, una nuova buona abitudine è bene, due nuove buone abitudini è meglio e il loro effetto sommato è probabilmente maggiore dei singoli apporti. Consapevolezza e quotidiana attenzione, sì, ossessione mai. Grazie, grazie, grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Nel mio piccolo rimango a tua completa disposizione qua sotto nei commenti per dubbi, domande e critiche costruttive, ma ricorda sempre che uno sconosciuto su internet non può e non deve mai sostituire né il tuo medico curante, né il tuo oncologo. Grazie ancora, ciao! Grazie a tutti!